��ia cK machina fate quello che volete durante un spettacazzando ma invece io l'ultimo libro che ho letto anzi, che ho riletto è l'Odissea ma lo so, detto così sembra un pacco cioè in effetti uno dice ma pure la mannina adesso sta pesanti, no, non vi preoccupate. L'Odissea è un libro che consiglio pure io, perché in realtà è molto più semplice, molto più utile di quanto non ricordassi dalla scuola. E vi spiegherò anche perché è utile. Intanto la cosa che più di tutti mi ha colpito quando l'ho riletto è la struttura narrativa. Perché Omero, o chi per esso, sin dalla primissima pagina ti svela tutto ciò che accadrà nel poema. Cioè sin dall'inizio ti racconta tutto, ti fa una sorta di breve riassunto. Io vi voglio leggere soltanto alcuni dei primi versi per farvi vedere questa struttura narrativa che è molto originale e che verrà ripresa poi anche da altra letteratura classica successiva e anche dal cinema addirittura. Vi leggo soltanto alcuni versi, non ve ne andate, eh? Solo pochi, così domani se vi dovessero dire ma qual è l'ultimo libro che... Ma guarda, ho iniziato ieri l'Odissea, se la potete... Guarda, vi leggo soltanto questi versi, ma in realtà in tutta questa prima pagina, sono i primi 25 versi, lui fa questa sorta di riassunto. L'uomo ricco d'astuzia racconta mio musa Che a lungo errò dopo che ebbe distrutto la rocca sacra di Troia Di molti uomini le città vide e conobbe la mente Molti dolori patì in cuore sul mare Lottando per la sua vita e per il ritorno dei suoi Ma non li salvò Ben che tanto volesse Per loro propria follia si perdettero pazzi E il sole distrusse il giorno del loro ritorno E così via Eppure tu, nonostante sappia già ciò che accadrà Tutto ciò che accadrà Non perdi l'interesse a leggerlo Perché? Perché la seconda volta che ti racconterà i fatti Te li racconterà dal punto di vista del protagonista di Odisseo Un po' come la tecnica della soggettiva nel cinema Che è quella tecnica che ci permette di calarci nei panni di un personaggio Facendoci vedere le immagini così come lui le vedrebbe Quindi per esempio Se il nostro personaggio dovesse essere miope E dovesse perdere gli occhiali Noi vedremo tutte le immagini sfocate Se invece il nostro personaggio dovesse essere sdraiato Vedremo le immagini dal basso verso l'alto Quindi vedremo il cielo, il soffitto, un volo d'uccelli Un po' come quando Tu telefoni a tuo marito E gli dici Amore Ho fatto un incidente Con la tua macchina nuova Lui non è che perde l'interesse Anzi Vuole sapere che cosa è successo Di chi è la colpa Che cosa si è fatta la macchina E il momento più interessante Sarà vedere come reagirà davanti alla macchina distrutta Quello è il momento che Omero chiama del patos E tuo marito della sfigas Tuo marito buttato sul cofano Che piange Alla stessa notizia Una donna reagirebbe in maniera completamente diversa Se ti telefona tuo marito e ti dice Amore ho fatto un incidente con la tua macchina nuova Ma non ti preoccupare non mi sono fatto niente Ma comunque passa in ospedale e mi accompagna Paola Ma chi è essa Paola? Perché il nostro punto di vista è differente E l'Odissea questa cosa ce la spiega benissimo ragazzi Leggetevela Perché nell'Odissea si legge perfettamente qual è La diversa psicologia degli uomini e delle donne Di quest'eroe Odisseo che viaggia in giro per il mondo Della donna Penelope che lo aspetta E anche di tutti i rapporti tra uomini e donne Perché lui incontra diverse donne E ogni rapporto è differente Allora vi faccio un breve riassunto Per chi non avesse letto l'Odissea Può essere di questo lato Per chi non se la ricordasse Di che cosa parla l'Odissea? L'Odissea racconta le gesta di questo eroe Odisseo Ulisse per i latini ma Odisseo per i greci Che già dal nome si capisce che è un eroe Perché Odisseo figlio di Laerte Mi ecco è Cioè già Aspetti uno bello no? Odisseo, Menelao, Agamemno Ne hanno tutti nomi da eroi Se Omer avesse chiamato il protagonista Gennaro Avrebbe scritto un posto al sole Quindi di che cosa parla sto Odissea? Finita la guerra di Troia Che vede il nostro eroe come protagonista Perché lui ad escogitare il famosissimo cavallo di Troia Finita la guerra di Troia Odisseo deve tornare a Itaca La sua patria, il suo regno, la sua isola L'Odissea ci racconta proprio questo viaggio di ritorno Da Troia a Itaca Io vi voglio fare vedere la cartina geografica Lui deve andare da Troia a Itaca Ce l'hai di fronte Non ti puoi perdere Ci sono 580 miglia Con le navi che aveva lui E con i venti che ci sono in quei luoghi È stato calcolato dagli esperti Che Massimo avrebbe dovuto impiegare 10 giorni Quanto ci mette lui? 10 anni! Si fa tutto il giro del Mediterraneo Costa Smeralda Ibiza Panarea Fa lo stesso giro della Costa Romantica Lo stesso giro Guarda là Esattamente come i nostri uomini Che tu li mandi a fare la spesa Tornano dopo 3 anni E non hanno comprato il pane Che tu dici Ma il pane non l'hai comprato? Non guarda non l'ho comprato Perché vabbè adesso magari esco Lascia stare L'ho impasta a casa che faccio prima Ti muovere d'acqua Di questi 10 anni Io avevo un ricordo scolastico Di quest'uomo Sempre in mezzo alle onde I mari Le tempeste I mostri Scilla Cariddi Ma quando mai? Quella mare Ci sta un anno Poi sta Un anno Nell'isola di Circe La maga E se la fa Quasi 8 anni Nell'isola di Calipso La ninfa E se la fa Qualche mese Nell'isola di Nausica La principessa E se la vorrebbe fare Ma non se la fa Con ognuna di loro Il rapporto è molto differente Come vi dicevo prima Con Circe Il rapporto è tra due adulti Che si amano In un modo molto maturo Un modo intenso Loro hanno Una complicità fortissima Parlano Si confidano Quando lui va via Dopo un anno Va via Non per suo volere Lui va via Non perché lui pensasse A Penelope Non ci pensava Proprio a Penelope Lui va via Perché è costretto Dai compagni Che gli dicono Basta Noi vogliamo andare via Da quest'isola di Circe Ci stiamo annoiando Si vede che Circe Non aveva amiche Quindi va via Dopo un anno E lei Accetta Questa sua decisione La comprende Fin in fondo Tanto che gli indica Anche la strada Del ritorno Perché pure lei Si è resa conto Che questo senso Dell'orientamento Non è A Con Calipso Il rapporto È molto differente Perché lei È diversa E quindi cambia L'intreccio Lei è una donna Passionale Quindi Il legame È fondato Sull'erotismo Lei vorrebbe Addirittura Sposarsi Odissio Gli vorrebbe Regalare L'immortalità Figurati Gli uomini Si terrorizzano Del matrimonio Figurati Sposarsi Con una Che non muore mai Se ne scappa Quello Se ne scappa Non ce la fa Ma è con Nausicaa Che noi Ci rendiamo conto Del perché Quest'uomo È considerato Un eroe Da Omero E dai greci Perché fino ad ora Non ce ne siamo resi conto È giusto Un eroe Senza il senso Dell'orientamento Può essere mai Poi dice Nella prima pagina L'uomo ricco D'astuzio Allora Ti metti a mare No? Devi navigare Per anni E per anni La prima cosa Che fa Uccide Il figlio Del dio Dei mari Cioè Ti metti Contro l'unico Che non dovevi Fare incazzare Ma quando Incontra Nausicaa Noi finalmente Ci rendiamo conto Del perché È un eroe Lui sbarca Sull'isola di Scheria Naufrago Stanco Sporco Reso brutto Dalla dea Atena Nausicaa Lo vede Per la prima volta Nudo E dice Vieni a casa Che ti presento I miei genitori Ed è lì Che ci rendiamo conto Del vero Punto di forza Di questo Odissio Era un eroe Perché È super dotato Ragazzi Non è che lo dico Per fare la battuta Perché per i greci La bellezza Era fondamentale Nel frattempo Penelope A casa Che fa? Non vi vergognate Tesse la tela Bravi Ditelo Che lo sapete Ditelo Bravi Che l'altra volta Hanno detto Fa la calza Tesse la tela Si vede che stasera Il livello culturale è alto Che siamo a Milano Allora Nonostante solo Sant'Ambrose Abbia letto qua Il libro Allora Tesse la tela Per l'esattezza Penelope Tesse Il sudario Del suocero Laerte Il sudario È questa tela Appunto Con cui viene avvolto Il corpo del morto Il giorno del funerale Peccato che laerte Fosse ancora vivo Quindi mentre Penelope Tesse Laerte Si tocca Perché dice Ma non si può fare Un maioncino Per te Un ascia Fate un centrino Fate un centrino Ma lei Tesse Per tenere Lontani I proci Che vorrebbero Governare Avere il potere E avere il potere Sull'isola Visto che il regno È vacante Perché lui Manca Odissio Manca E quindi sposando La moglie Del re Diventerebbero Loro Potrebbero governare Ma lei resiste Grazie a questo stratagemma Li tiene lontani Per dieci anni Sta dieci anni Senza un uomo Solo in un libro Si può leggere Una cazzata Di questo tipo Ma facciamo finta Che sia vero Quando lui torna Dopo dieci anni E dopo avere fatto Tutto quello Che è fatto Che cosa Ha il coraggio Di dire alla moglie Devo ripartire Vi giuro Nel penultimo canto Dice Devo ripartire E prima Che cosa fa Uccide Tutti i proci Che giustamente Penelope dice Ma se vuoi ripartire Parti Almeno un procio Ma lo vuoi lasciare Magari uno cambia idea Io penso Che la figura Di Penelope Vada un po' Rianalizzata E anche un po' Insomma Va rivalutata Perché spesso Viene identificata Considerata una donna Quasi un'antifemminista Perché la donna Remissiva Che aspetta Che subisce Un po' Una decisione Un destino E che Perdona i tradimenti Penelope Non perdona I tradimenti Penelope Semplicemente Non viene a sapere Dei tradimenti Perché ai tempi Penelope Non esisteva Whatsapp Non esisteva Internet Altrimenti Dopo dieci giorni Di navigazione A Penelope Sarebbe arrivato Un messaggio Su Facebook Con scritto Circia Stretta amicizia Con Odissio Che Circe Sicuramente Qualche cosa Stringeva Ma non era Certo L'amicizia Un scherzi Un scherzi Un scherzi